Palazzo Cattaneo, uno degli edifici storici più affascinanti di Cremona, è di nuovo in vendita alla cifra di 3 milioni di euro. L'annuncio nei giorni scorsi è apparso su un sito web di vendita immobili, dopo che già nel 2018 un primo tentativo era stato fatto con la richiesta di un milione in più. In attesa di scoprire chi sarà l'acquirente di uno dei palazzi storici più affascinanti di Cremona, ci siamo fatti raccontare la sua storia architettonica e l'antica destinazione d'uso. È un palazzo di origine cinquecentesca, anche se le fattezze che vediamo oggi sono di fine Settecento, quando viene chiamato l'architetto Faustino Rodi a riformare completamente l'edificio. Fa dei grandi interventi, soprattutto all'interno dei saloni e nel corpo centrale, perché originariamente questo palazzo era formato da due corpi sui due lati corti del lotto e Faustino Rodi progetta tutta la parte centrale e fin da subito avrà il problema di illuminare questi spazi con la luce naturale. Ci sono delle particolarità all'interno di questo palazzo? Sicuramente il grande salone è chiamato appunto Salone delle Cariatide e dei Telamoni, proprio per la presenza di queste figure che diciamo si inalzano e sorreggono la volta. E proprio questo salone, che è il salone da ballo, il salone delle feste, come vi anticipavo, ha un problema di illuminazione, quindi l'architetto Rodi inalza il soffitto a una doppia altezza e apre sulla volta degli oculi per illuminare lo spazio. Quindi è anche utilizzato per dei balli, delle rappresentazioni musicali? Sì, all'interno, all'inizio dell'Ottocento viene ospitata l'Accademia Filarmonica, poi vengono fatti dei balli, feste, ricevimenti e fino a pochi anni fa era usato come location per feste, matrimoni, c'era anche un ristorante, insomma quindi è sempre stato un palazzo molto vivo. Grazie a tutti.